ciao ragazzi ciao ragazzi eccoci qua marpi è tornato per distruggere un boss se ci riusciamo siamo tornati alla parte di forte ferro dove c'è praticamente notate il nostro spadone magnifico esatto siamo riusciti solo a portarlo a più 2 esatto eccolo qui perché il nostro arco l'arco l'abbiamo avanzato più 9 l'arco del fulmine ma questo qui più due perché purtroppo tenete scintillante in questo gioco scarsi già però c'è da dire una cosa noi stiamo andando con un'arma di fuoco a fare un mostro di fuoco sì però c'è anche da dire che questo qui senza il fuoco fa 223 ma quando c'è tartarugone non sarà di questo qui fa 223 solo senza fuoco e di fuoco fa 62 no l'altra fa 186 senza nulla quindi conviene comunque avere questa per adesso c'è il tartarugone riva di arrivare lì e anche più lunga e mi sembra bene anche la sua bella lunga però sì 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 passi statena come sempre c'è sta pure l'altro qua mi sembra ah se ne sono due ok sta qua vedi oh frammento di vita ma noi andiamo sempre a fare che il boss con 11 sì non possiamo parlare altrimenti non ne ho non so cosa prendere quindi c'è qualche lumicino no qui non c'è niente praticamente perfetto mi ricordo che questo boss era fantastico era fantasticamente difficile e adesso siccome io so già aspettate tutti prima di aspettate tutti noi entriamo tutti quanti allora tu intanto allenati intanto che io dico come volevo dire esatto allora io mi auguro che muoio che muoio almeno un paio di volte perché so già la canzone da mettere qua sotto se adesso tu vai e vince il primo colpo ah io non so più cosa fare dopo allora invece sì perché non è questo il boss a cui deve mettere quella canzone che dici nell'altro anche questo vabbè vabbè ragazzi addio addio perché questo boss non è guarda già il video tu capisci semplice che ti devi preoccupare io ero preoccupato anche prima di un brano no ma tu vedi tutta questa cosa che questo sembra ifrit ifrit di final fantasy è proprio lui e lui con le corna potenti una capra sembra che sia un caprone si è un caprone volante devo ricordarmi i suoi attacchi perché non me li ricordo cioè ti preoccupare mi ricordo perché ti prende lo stesso ok dovevamo aspettare che lanciasse qualcosa qualcosa che non mi ricordo cosa tipo 4 soffia e questo riesce a questo qui lo scansi tranquilla se non sei lontani a questo qui bisogna proprio ecco c'era anche un buco c'era anche un buco ti ricordi se adesso te lo ricordi il buco no perché non ci siamo mai caduti lì siamo caduti dai le sponze c'è anche un buco ragazzi a sui volentotu mirada a sui volentotu nada nooo chi ha saltato non è più che ha saltato il buco è perché il fuoco quando ti prendi è disposto è di qua che faccia tutto nel calcio sono Grazie per la visione Grazie per la visione Quando si esce da qui, lo spieghiamo adesso, quando si esce da qui lui esce proprio davanti praticamente e ci si mette qui. Quando fa l'attacco del raggio bisogna schivarlo, saltare sulla destra, mettersi qui, lui spara il raggio, si salta sulla destra e si attacca il pugno che lui fa. Sul polso? Sul polso perché non sul pugno perché sennò vi fa col fuoco. Quando fa il fuoco normale vi mettete qua dietro e non vi prende mai col fuoco normale. Sì, la vega. Polvere d'osso sublime. Buono con la nostra flessetta. Esatto, scendiamo giù perché penso che qui ci sia il falò potentissimo perché questo era un altro boss speciale. No, qui mi sembra che non c'è niente però una controllatina non fa mai male. A notare la nostra bellissima armatura che mi piace tantissimo, è pesante ma è bellissima. Quella di Alon, sì. Bellissimi così, ci manca solo la testa. Esatto, dobbiamo prendere solo l'elmo, non la testa ma l'elmo. Va bene ragazzi, noi torniamo a Magiula a far passare qualche livello perché con 67.000 anime non si può andare in giro. Esatto. E ci vediamo nel prossimo video dove andremo ad affrontare l'altro boss che è molto più forte di questo. Ciao a tutti. Ciao ciao.